Sono in progress, nel senso che questo è il primo incontro che abbiamo fatto con le comunità campane che vivono all'estero. La riflessione che io faccio e che ho fatto anche in aula è che l'emigrazione non è più quella di 30 anni fa, non è quella più che crea le famiglie e non è più quella stanziale. L'emigrazione adesso è quella dei giovani, i quali 15% in più dal 2016 al 2015 partiti da tutta Italia e che non sono più stanziali, girano, non hanno un luogo nel quale fermarsi e non sono quindi poi un riferimento per le associazioni a cui noi abbiamo fatto riferimento. E' necessario creare una piattaforma altra alla quale afferiscano sì le vecchie associazioni ma anche i giovani che non sono aggregati perché non sono più stanziali.